da di smash 4 diciamo ha dovuto trasferirsi quindi non l'abbiamo più visto ora è tornato torna ovviamente nella festività e ha voluto organizzare proprio lui questo torneo è uno degli organizzatori quindi gli abbiamo gli dobbiamo molto tbb bolciac dell'altra parte abbiamo pneuma che è un giocatore invece che sempre è conosci una è con noi da un bel po di tempo un giocatore che migliora a vista d'occhio soprattutto recentemente si mette si è messo di impegno e sta migliorando veramente tantissima cosa che mi ha fatto particolarmente piacere che non dico che ha droppato però magari ha fatto qualche qualche aggiustamento si può dire il momento ecco ha deciso di prendersi joker come come me in principale ma ora sono roi quindi si è esattamente in realtà lui usa croi da un bel po di tempo più e l'inizio usava più chrome ora usa molto più roi però finalmente ha capito effettivamente che eroi rispetto a croma un po più di potenziale sì ma ce l'ha soprattutto per il recupero in realtà quello è veramente bolciac si suicida va bene ok ah ricordiamo la cosa che mi ha fatto molto ridere ieri crono ieri alla domanda crono ma cosa vuol dire sd ha risposto suicide death e mi ha fatto molto ridere questa cosa quindi la comunico pure suicidio morte in poche parole morte per suicidio come se in un gioco per bambini di otto anni ci potesse essere la parola suicidio suicide ok intanto mentre pizza mi distrae con le sue cavolate ma prende la stocca con un piccolo svantaggio in realtà solo 33 per cento che però prima stai stendendo ancora lo svantaggio arriva a 64 per cento versus 18 nair con becca il rai ottimo rientro stage di bolciac bellissima combo palla nair da un tilt non riesce a estendere dal da un tilt però l'idea era molto buona uno slide niente sliding soprattutto veramente una cosa che hanno soprattutto chrome eroi che riescono a scivolare in una maniera incredibile bellissimo la sua specialità la sua specialità e le porcate con cappa e flood di mario da smash 4 che usa questo personaggio la smash 4 che riesce a rubare stock in maniera improponibili ma c'è sempre piaciuto così ancora un altro poi frutti spettacolare bravissimo no sbagliato mamma mia e porta una 0 0 0 per il nostro mario main con la skin di default fa una capriola e dice guarda questo pugno che te lo mostro dato in faccia di struma mia bravissimo bolciac adesso vedremo che comunque speriamo che pneuma riesca a redimersi un attimo vediamo cosa prenderà adesso tu che ne pensi piuttosto del match up joker contro mario secondo me penso lo vincato per alla fine non di troppo ma credo dovrebbe vincere joker ma non penso nemmeno sia così scontato alla fine ma questo perché giocare è rottissimo tu dici joker sono personaggi veramente da rottissimi in senso tipo sbagliati se gioco non ce ne sono tranne hero xd però joker è uno dei più forti non mi voglio sbilanciare ma è sempre stato considerato intorno alla zona del top 1 ora io non so chi sia veramente il top 1 ci sono dibattiti fra joker e pikachu ma comunque sicuramente uno dei più forti ok riconfermano gli stessi main i giocatori e si va per il secondo game di questa world in round 3 15 dicembre 2019 winter capi torno più anticipato e più stacca di di altomale tournament purtroppo stacca ed anche per il fatto che doveva venire il nostro dinamire da napoli ma purtroppo non è riuscito a raggiungerci comunque prima chi lascia battlefield una scelta un po azzardata secondo me anche se ma per mario effettivamente per roi è buona credo però mario la sfrutta veramente bene molto meglio rispetto al roi stesso sì 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 però bello mi è piaciuto hai visto bravissima hai visto prima che ha fatto prima ho usato il side b ho fatto la hit in aria per mandarlo sulle piattaforma per poi fargli un appello ottima mossa sieda che peneva conosce benissimo i knockback e le potenzialità delle capacità del suo personaggio evitare la palla di fuoco per pochissimo e ora rientra un stage e spottò già la grab di bolciac che gli passa attraverso una flash però tipico mario mio ok è troppo ottima per rial la palla di fuoco un segnale in aria non lo completa però contro 6b verso il basso ok proprio un smash andiamo vediamo una situazione molto tesa dove si studiano molto comunque sia assolutamente sono due giocatori che soprattutto prima ma recentemente hanno raggiunto un sacco di pazienza sono due giocatori che non non pushano troppo se non era ottima combo da jeb beccare ancora non killa ma una con una conferma che prende a moltissimi percentuali compresa la chi conferma compresa la che il percento quindi ok ma ora è il momento ripare le domo ottima di aria da parte che vi hai credo abbia fatto basso giù in basso c'è giù in basso giù a sinistra quindi riuscito a evitare però carica questo neutro al b ma non mi è piaciuto si sta a prendere una smash grazie a questo neutro al b ancora bolchak con il down air che lo manda in alto continua il juggling però esce pitto esce dalle combo di bolchak usando le tue hitbox con questa spada che outrangea pitto scusate pneuma outrangea i piedi e le mani di mario un down smash non molto bello da parte di bolchak rispettava che pneuma gli lasciasse in faccia hello highest of iqs hello ok abbiamo un back air da parte di da parte di mario di mario riesco a parlare ok ci sono ci sono pneuma aspetta al ledge aspetta mario aspetta che rientri on stage continua a tenerlo a ledge però brutto sai b short off sai b stavolta non funziona ed è una smash ma percentuale veramente veramente critica per bolchak che si vedrebbe cancellare la sua stocca da molte delle mosse di roi infatti ecco una pair per lo sweet spot ok questo è un torno officale di alto mario smash siamo una comunità da sicily e questo è il nostro più grande torno di palermo questo è il nostro più grande torno di ultimato di ultimato per noi e stiamo streamando qui su smash bros italia perché la twitch channel is being used by us is shared by yeah every community uses uses yeah and ok ricominciamo il match we are casting in italian sorry but this is a vabbè i termini comunque ci sono sempre anche in inglese attenzione siamo sul 2-0 è il match match by the winner of the match match by the winner of the match